Davide, non gira nulla, però a questo punto ha senso continuare a parlare di sfortuna, di occasioni mancate, di che cosa parliamo? Senti, io penso che ho fatto un'intervista qualche settimana fa dicendo che non è sfortuna e ribadisco il concetto. Se ci nascondiamo dietro la fortuna mi sembrava un discorso troppo riduttivo. Per solo farci un esame di coscienza, sentirci in discussione tutti dal primo all'ultimo e basta cercare di dare qualcosa in più. Tanto parole non ce ne sono da dire, se ne sono fatte talmente tante, parliamo sempre, lo spirito di qua bisogna dimostrarlo e lo dobbiamo assolutamente fare. Facciamo della psicologia da quattro soldi, sempre che sia possibile farla, ma voi sentite cambiare qualcosa dentro di voi tra un tempo e l'altro, da una fase all'altra della partita? Perché il Brescia del primo tempo è stata una cosa, è stata una squadra, il Brescia del secondo assolutamente irriconoscibile. È evidente che dopo tante partite che non vinci, quando vinci forse che la partita finisse il primo tempo appunto perché è tanto che non vinciamo. Il secondo tempo non so perché ma è un po' di domenica e poi stando fuori me ne accorgo molto. Il fatto che sembra quasi che rinunciamo a giocare, che abbiamo paura di vincere tra virgolette se mi passate le parole. Ma è così, ci tiriamo indietro, sbagliamo qualcosina e diamo fiducia agli avversari. Questo non deve succedere, dobbiamo trovare la causa di questo. Il secondo tempo non siamo entrati in campo come al primo. Ma questo perché è una questione fisica? Perché non ne avevate più ordini di scuderia? Penso che se sapessimo il perché eviteremmo magari certe cose. Sicuramente non erano ordini di scuderia quelli di gestire il risultato? Assolutamente no, anzi il mister ha preparato benissimo questa partita. In campo poi andiamo noi giocatori, quindi penso che ognuno di noi deve cercare di tirar fuori qualcosa in più. Perché dopo un paio di partite puoi parlare di sfortuna, puoi parlare di arbitri, cercare alibi. Ormai non esiste più niente, ormai siamo noi.